Salve a tutti! Con questo breve tutorial vogliamo illustrarvi il metodo che stiamo utilizzando in classe per l'insegnamento del corsivo. È importante innanzitutto che sappiate che un lavoro da svolgere senza fretta, è solo dopo la completa acquisizione dell'alletto scrittura. Il nostro vuole essere un percorso sistematico per l'apprendimento di una bella grafia, per contrastare quel fenomeno che qualcuno ha definito la degenerazione grafica della scrittura. Stiamo curando dunque l'orientamento all'interno delle righe, l'acquisizione del corretto gesto grafico, con particolari attenzioni e tratti di ingresso ed uscita, le proporzioni e le legature. La presentazione dei grafemi avviene per famiglia, includendo per ognuna gli esercizi grafici strutturati. Ogni famiglia comprende le lettere raggruppate per movimento analogo. L'ordine di presentazione è quello che potete vedere nella schermata. Solo dopo aver presentato le cinque famiglie di lettere, si procede con i collegamenti anomali. Per eventuali approfondimenti teorici e le scelte metodologiche, si veda il corsivo dalla A alla Z, un metodo per insegnare i movimenti della scrittura, la teoria e la pratica. Edizioni Ericsson. La prima attività che abbiamo proposto, dopo aver invitato i bambini ad osservare questo allografo e a discriminarlo da quelli precedentemente utilizzati, è stata quella di esplorare il quadernino a righe. Tenete conto che fino ad oggi i bambini avevano utilizzato solo quadernoni a quadri centimetrati. E' utilizzato in scrittura unicamente la stampa maiuscola. Abbiamo dunque proposto un'attività che consentisse loro la discriminazione delle righe piccole. Con un evidenziatore abbiamo segnalato le righe piccole a lato e abbiamo invitato i bambini a colorare all'interno, rispettando con attenzione i margini sinistro, destro, la riga superiore e quella inferiore. Abbiamo poi proposto i primi esercizi grafici funzionali alla prima famiglia di lettere. Anche in questo caso abbiamo evidenziato le righe piccole e inserito il punto d'ingresso con un pennarello nero, per poi invitare i bambini a svolgere l'esercizio grafico con un tratto continuo. Abbiamo poi proposto un secondo esercizio, questa volta con corpo centrale e con tratto ascendente. Siamo poi passati a presentare la prima famiglia di lettere, quella formata dalle lettere I, U, T, R, che hanno in comune il punto d'ingresso in basso a sinistra. Vediamo il gesto grafico della I, della U, della T e della R. Ognuna di queste lettere va tracciata con un unico movimento continuo. Nel caso della I e della T ci sono due tratti aggiuntivi che sono il puntino e il trattino. Questi vanno posti per ultimi, sia che si scriva la singola lettera, sia che si stia componendo una parola. Prima di invitare i bambini a procedere con il lavoro, abbiamo consegnato ad ognuno un cartoncino con queste lettere, affinché potessero con il litino descrivere il gesto grafico. Subito dopo sono passati alla riproduzione accompagnati dalla musica classica. Molto importante è stato mostrare la posizione dei caratteri nella riga, evidenziando i corpi centrali I, U, R e il tratto ascendente della T. E intervenire tempestivamente nei più comuni errori, un'eccessiva apertura della I e della T e la curvatura della R. Questa è la modalità in cui abbiamo impostato il lavoro di riproduzione. Ancora una volta abbiamo evidenziato le righe piccole e inserito i puntini, in modo che i bambini potessero vedere con chiarezza il punto d'ingresso. Questo l'abbiamo fatto solo nelle prime quattro righe, affinché i bambini dopo procedessero autonomamente. Vediamo adesso il lavoro, aprendo direttamente il quaderno di un bambino. Questa è la prima attività, quella nella quale dovevano colorare le righe piccole per rinforzarne la discriminazione. Vediamo poi gli esercizi grafici strutturati per la prima famiglia di lettere, il primo e il secondo. e poi la riproduzione dei singoli graffemi. La I, la U, la T e la R. Vediamo poi la riproduzione di tutte e quattro le lettere insieme e infine quella delle prime parole con legature semplici. Il lavoro procede poi nello stesso modo con le altre famiglie di lettere, facendo seguire sempre agli esercizi di riproduzione quelli di legatura. Solo al termine delle cinque famiglie vengono presentati i collegamenti anomali, quelli che riguardano le lettere B, O e V. Su questi però è opportuno soffermarsi con cura, perché sta diventando sempre più frequente rilevare un apprendimento scorretto e difficile da modificare. Vediamo ora velocemente il gesto grafico delle altre quattro famiglie di lettere. Questa è la seconda famiglia di lettere e comprende le lettere E, L, F e B. Anche in questa famiglia il punto d'ingresso è in basso a sinistra. Tutte le lettere vanno realizzate con un unico movimento, fatta eccezione della F che necessita di due movimenti, uno e due. Qui è opportuno far osservare la posizione nelle righe, la E con corpo centrale, la L con tratto ascendente, la F con tratto ascendente e discendente e la B con tratto ascendente. Nella F è opportuno far osservare con molta attenzione il tratto che la taglia a metà e che deve essere allungato verso destra per il collegamento con il carattere successivo. Vediamo poi la terza famiglia di lettere. In questo caso, per le lettere N e M, il punto d'ingresso si trova a metà della riga piccola. Mentre resta ancora in basso a sinistra per le lettere P e H. Vediamo il gesto grafico della N, della M, della P e della H. Facciamo notare la posizione delle righe, N e M con corpo centrale, la P e la H con tratto discendente una e ascendente la seconda. Andiamo a vedere la quarta famiglia di lettere. Questa è una famiglia numerosa composta da sei grafemi C, A, D, Q, G e O che hanno in comune il punto d'ingresso in alto a destra. Molto importante per questa famiglia è porre attenzione al verso di rotazione che deve essere anti-orario. Anche qui, molto importante far notare quali sono i caratteri con tratto ascendente la D, discendente la Q e la G. Siamo arrivati quindi alla quinta e ultima famiglia di lettere, quella formata dalla S, dalla Z e dalla V. In questo caso abbiamo a che fare con lettere che non sono accomunate da movimenti simili quanto piuttosto da movimenti che richiedono numerosi cambi di direzione per realizzarle. Vediamo dunque il gesto grafico della S, della Z e della V. Completato questo percorso non resterà che dedicarsi ai collegamenti anomali, quelli che riguardano le lettere B, O e V e alla scrittura di parole che li richiedono. Il nostro percorso di presentazione si è concluso, speriamo di avervi aiutato a cogliere quello che è il tipo di lavoro che stiamo svolgendo in classe. Per farvi un'idea ancora più completa vi invitiamo a vedere il video che riprende i bambini durante le attività. Arrivederci a tutti e grazie per la vostra attenzione.